Buongiorno, questo è il vlog di oggi, che inizio con la palestra, cioè inizio, in realtà siamo tornati da scuola, c'è Beleri a casa con me oggi, sta facendo i compiti in inglese a Giorgio, e oggi andiamo alla prima di un film, la famiglia Beler, mi ha invitato la Team World, quindi vado, però prima sono venuta un po' in palestra, quindi sto facendo un po'. Allora, abbiamo appena finito, abbiamo l'ospedespero, ci ha accompagnato in palestra, Valeria che mi ha anche. Ok, adesso stiamo tornando a casa, c'è la Vale, Vale! Vuoi che tutto il YouTube sappia che tu sei una cattiva ragazza! No, sei tu che mi riprendi! I miei unghie è bellissimi! Infatti io, sì, sì. Ehm, quindi questo. Sì, non vi scandalizzate. Oh, ecco la mia madre! Pena tornato! No, ho sentito il cancello. Quindi, ora ci facciamo la doccia, che è? Ora ci facciamo la doccia, ci prepariamo e andiamo! Questa è una macchina di mia madre, perché è questa. Vedi, c'è lo stesso. Ah, non c'è stato. Vedi, c'è Gwen on the board là dentro, c'è il cuscinetto con Gwen, eccolo. Allora, adesso ci siamo preparate. Cioè, in realtà mi devo solo ritoccare un po' il trucco, però mi sono vestita, cioè mi sono messa un po' di cose così. E Valeria anche si sta affinando di prepararsi, si sta mettendo qua sotto. Io ho messo diva di MAC, adesso vado a riprestare un po' il fondodinta, magari. Giusto per coprire questa cosa corribile. Ah, bene! Poi, vero? Bello. E vi faccio vedere come mi sono vestita. Le sue capelli è boffato, non scendiamo perché è pregante. Poi mi sono messa. Questo ha un po' di lunga. Sì. Non lo consigliamo. Come lo consigliamo? All Fire Up. Eh? All Fire Up si chiamano un po' di jeans, queste scarpe, e un carriaco per il burlò. Dezzosa. Siamo in macchina? Stiamo andando. Pure non avevo stato in macchina. Allora, adesso dobbiamo farvi vedere che ti spingono. Valeria. Valeria, mi stai rivelando? Ok, stiamo facendo un po' tardi, ma Valeria, la nostra guida turistica... Al prossimo ecco, lo so di là da dentro! Riuscirà a condurci. Comunque questo è più a far bolligini, poi vedremo andato. Ok, ragazzi, ci siamo persi due minuti. Vabbè, questo film, questo coso non si trovava. Questo film è molto carino. Non c'è un po' niente. Sala 2, vabbè, vai qua. Appena è finito, abbiamo anche pianto. Tu e mia madre. Tu e mia madre. Tu e mia madre. E' un po' niente. No, non c'è un po' niente. E allora, quando lei canta, poi, c'è un po' niente. E poi, c'è un po' niente. E poi, c'è un po' niente. E poi, c'è un po' niente. Guardate che bella questa zana. Voglio fare la parola da micantondo, raga. Mi piace. Il cinema sta parlando. Non è un po' niente. Ma 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 si può fare la panoramica in corpo? Non lo so. Attenti però a non essere cercate. Levate da là. Vieni, no? Vieni, no? Vieni, vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni. Voglio andare a nascondere. Ciao. No, io no. Non siamo tutto in più. Sicuramente non mi è venuta una pianta, però mi è piaciuto molto. Lo so dovuta ritirà. L'avevo già visto. Avevo visto il trailer durante i vari film. Avevo visto il cinema. Mi ha detto, lo voglio vedere. E mi è piaciuto tanto. Giara, a te è piaciuto? Sì, ma non pensavo che mi piacesse. Poi io sono rimasta colpita perché allora domani devo farmi capelli. Non so a chi ti va interessare a questa parte. Comunque, domani devo farmi le messe, poi le formano uguali a questa qua del film, che tra l'altro lei è una cantante famosa in Francia, sì, nella realtà sì, e quindi questo, mi è piaciuto davvero tanto, ringrazio quelli della Timor, se stanno guardando il video, però ero invitata a questa anteprima, mi piace tanto. Sì, vorrei riuscire a provvedere quella via, che piene di luce, comunque adesso torniamo alla metro, dobbiamo cambiare le noccioline, che poi c'era una vicino a noi, Valeria ha perso le noccioline, neanche a dire che stavamo urlando, Va bene, comunque, mi piace questa via, va bene. Stiamo vedendo la tv, non ci vedi, non ci vedi, non ma io così, si vede solo la mia copertina, io vi dico ciao. Quindi vi mando una buonanotte, grazie per aver visto questo mini 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 vlog, sperando che sia venuto mini almeno una volta, so che vi mancavano i vlog. Quindi io, e qui dormi io con il telefono, siete sul telefono, vi salutiamo, vi mandiamo una buonanotte, buonanotte, buongiorno, ciao!